Ciao Matteo, beata te. Mi faccio un bagno anche per te, tranquillo. Assicurato, va bene? Ma la farò anche per te. Hai Taliba? Sì, giuro, me la farò anche per te. Hai brother? Ma tu stai al lavoro? Ciao Dario. Era al lavoro? Sì, l'avevo capito. Ma stai sereno. Ciao Yasin. Ma stai tranquillo. Beh, se vuoi ora ce sto. Comunque. Ma ragazze, non lo so, donate qualcosa. Fatemi salire questa live. Ciao Alex. Ciao John. Sto aspettando che caricano. Ma chi è? Ah, ok. Vabbè, ma che è, sei tranquillo. Grazie, Luca. Mi sento persa. Almeno devo arrivare, almeno questa volta, ok, che non ho fatto niente di live, ma almeno devo arrivare a... Ciao Elka. Almeno devo arrivare a 30k, almeno quello. Elka! Almeno quello sì. Perché questo proprio non ho fatto niente. Proprio inattiva al soluto. Ciao, bellissima. Ciao Elka, come stai? Non apri mai. E lo so. Ancora sto a 15 ore. Porca miseria. E siamo... siamo 21. Voglio vedere come devo fare. Il giorno dove... Siamo 21, eh. Ah, è due ore al giorno. Mangano dieci giorni. Ne mancano in realtà nove giorni. Perché siamo 21. E stiamo... Sì, per due fa 18, no? Quello sì. Però vediamo. Elka! Oh, thank you! Grazie, Elka! Grazie. Ciao Dani, ciao Silvio. Ciao Silvio. Ciao, bisellone. A che ora vai? Alle tre... Alle tre... Almeno un quarto tre. Magari questa... Stasera la faccio la live. Grazie, Luca. Magari la faccio stasera perché... Oh, thank you! Grazie, Elka! Magari oggi la faccio la live. Vediamo. Grazie, Flavius. Ci vediamo, cara. Ciao, Elka! Grazie ancora. Il mio profilo. Cos'è il tuo profilo? Se vieni fra poco, magari mi trovi. Se vieni un po' più tardi, non mi trovi. Spero. Vabbè, tranquillo. Tanto penso che riapro stasera. Ok, sì, Luca, tranquillo. Non ci preoccupare. Buon mare. Grazie, buon lavoro. Ci fa vedere cosa si indossi. Non lo vedi? Bandaloncino, una maglietta, il costume di sotto. Ciao, come stai? Bene tu? Ciao. Ciao. Ciao.